video di prova di battled una homebrew per megadrive di cui trovate in descrizione il link per scaricarlo è uno strategico in tempo reale iniziamo con una scorta di dollari con cui poter comprare alcuni sistemi di difesa e poi arrivano i nemici ad ogni nemico distrutto si guadagnano altri dollari con cui potenziare i sistemi di difesa già installati oppure comprarne di nuovi è una homebrew molto semplice ma l'ho trovata abbastanza carina come sempre se i miei video di aggiornamento sui prodotti homebrew vi interessano un like un'iscrizione al canale e la condivisione di questo video supporteranno il mio lavoro iscriviti al canale 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.